Couscous verde, facile, vegetale e saporito. La mia cosa preferita del couscous è che si fa in frittissima, quindi lo metto a riedratare e preparo il condimento saltando delle zucchine con un soffritto di cipolla fino a che sono dorate. Preparo un compesto di rucola con basilico, frutta secca mista ed un po' di ghiaccio per mantenerlo verde. Infine unisco al couscous le zucchine, dei piselli già cotti, il pesto ed un po' di rucola. Un piatto unico e completo pronto in pochissimo tempo.